Buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo come sempre la giornata dando un'occhiata ai giornali, il resto del calino, Corriere Adriatico con le pagine locali. Ebbene dopo un weekend, dopo la sosta del weekend, vedremo come i nostri cittadini, i nostri compaesani hanno così condotto la festività, ci sono stati degli eventi ma l'evento principe è stata certamente la tappa del Giro d'Italia di Fossombrone della quale ancora oggi si parla perché è stato veramente un successo, un successo di pubblico ma anche un successo organizzativo ma soprattutto un successo di immagine. E quindi procediamo con l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi. Ecco qua la grafica, eccola, si tratta di Sant Isidoro, un agricoltore. Sant Isidoro agricoltore era un personaggio spagnolo, nacque e morì a Madrid, lavorava in un campo, ovviamente il campo non era suo, lavorava per il proprietario, ma Sant Isidoro rappresenta, è un tipico esempio come una vita dedicata al lavoro condotta con fede e umiltà può portare alla santità, alla santificazione. E' veramente un esempio di vita normale, senza grandi spunti, grandi lumi di eccellenza, una vita umile, una vita appartata che però è stata portata alla santificazione. E questa è una cosa veramente eccezionale. Vediamo le previsioni del tempo, sono ancora incerte, non sono buone, non sono buone, la situazione rimane ancora variabile. All'inizio abbiamo una giornata asciutta con una nuvolosità irregolare e poi le nuvole arriveranno perché vengono dall'Africa e c'è una bassa pressione che incombe, che dilaga, diciamo così, più che incombe nel nostro territorio. I venti sulle coste spireranno da nord, nell'entroterra da est e nord-est, il mare è mosso, le temperature sono leggermente in ribasso rispetto al passato, abbiamo le minime a 10 gradi, le massime a 17, insomma i 20 gradi li abbiamo lasciati alle spalle. E allora apriamo i giornali, oggi vediamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo come il maltempo ha rovinato l'inizio della stagione balneare. In realtà c'è una data virtuale e molto anticipata rispetto a quella poi reale che si svolge. Insomma ieri doveva cominciare la stagione balneare per molti concessionari di spiaggia della costa fanese. In realtà così non è stato perché il tempo non lo ha permesso, non si poteva andare al mare ieri, c'era vento, c'era una nuvolosità, c'era anche la pioggia. E quindi vediamo il titolo, Bagnini, sull'orlo di una crisi di nervi. Adesso si accanisce anche il meteo. Ieri dovevano aprirsi gli stabilimenti Mandolini, Mauro Mandolini che è il presidente dell'associazione Bagnini che si riconosce nell'oasi, è ottimista però sulle prenotazioni perché sono già partite e la gente ha voglia veramente di vacanza, ha voglia di mare, ha voglia di stare tranquilla sulla spiaggia ad arrosolarsi al sole. Il mare d'inverno, d'accordo, ma peccato che sia maggio inoltrato. La maggior parte dei Bagnini fanesi era pronta ad iniziare la stagione balneare nella giornata di ieri, ma la realtà è stata ben diversa. E non sembra possa registrare rapidi cambiamenti. Sì, perché questa settimana sarà una settimana burascosa. Insomma, maggio è un po' peggiore dal punto di vista del tempo rispetto ad aprile. Mal tempo, ma non solo. Ci sono poi diversi problemi che incombono sulle concessioni di spiaggia. Ne abbiamo parlato diffusamente anche nei giorni scorsi. Abbiamo la Bolkestein che fa molto arrabbiare i concessionari. Ma abbiamo altri problemi, come per esempio l'aumento delle fonti energetiche, l'aumento delle attrezzature da spiaggia, il che ha comportato anche un ritocco dei prezzi per quanto riguarda l'affitto delle strutture balneari. Affitto che sarà sul 10-15, anche il 20%, per coloro che non hanno mai aumentato i prezzi da diversi anni e quindi adesso sono costretti a farlo. E poi c'è la chiusura della Contessa. La chiusura della Contessa, dice Mauro Mandolini, influirà parecchio perché, insomma, specialmente nei weekend c'era un flusso continuo di turisti umbri che raggiungevano il mare della provincia di Pesaro Urbino. Ora invece, con la chiusura della Contessa, saranno invogliati a fare il quadrilatero e quindi andranno a frequentare le spiagge del sud delle Marche e la provincia di Pesaro Urbino rimarrà un po' all'asciutto. E vedremo come andrà a finire a fine stagione, sperando che i lavori si svolgano al più presto e si concludano nel migliore dei modi. Ma parliamo di turismo. Parliamo di turismo perché ieri si è tenuta l'Assemblea della Proloco di Fano. Si è tenuta a Tre Ponti, dove il Presidente Giacomo Grandicelli ha svolto la relazione, per quanto è stato compiuto nel 2022, e ha reso noto anche i dati di bilancio. Oltre 400 soci personali più 25 associazioni, che portano il numero degli aderenti alla Proloco a diverse migliaia, perché poi le associazioni hanno numeri molto, molto elevati. Questa è la Proloco di Fano, che ieri appunto è stata ospite della cooperativa Tre Ponti, gestita da Gino Bartolucci, che poi è anche le Deus Ex Machina della stessa Proloco, e quindi ha così rivelato e ha fatto anche il tesseramento. Presenti il Sindaco Massimo Seri e l'Assessore regionale Stefano Aguzzi. Erano presenti anche gli Assessori Lucarelli e l'Assessore Dimitri Tinti, perché oltre al turismo la Proloco di Fano dà un grande contributo anche ai servizi sociali. Questo è un settore un pochino più nascosto, più discosto, rispetto a quello più importante, il contributo che dà agli eventi, alla Fano dei Cesari, al Natale che non ti aspetti, a In Gir per Fan, che sono un po' le manifestazioni leader che organizza la Proloco stessa. Ma ci sono, dicevo, altre iniziative più così sconosciute, magari, come Old But Gold, che si riferisce agli anziani valorizzando la loro attività e facendo che essi si inseriscono pienamente nel contesto cittadino e quindi anche un'opera di carattere sociale molto importante. Questo circuito è all'altezza di un campionato mondiale. Siamo ora a Fossombrone e si parla di Giro d'Italia. Il tracciato del Giro d'Italia a Fossombrone ha conquistato il favore dei tecnici. Una tappa molto lunga, 200 chilometri da Terni a Fossombrone, con le salite finali delle Cesane e del Colle dei Capuccini. Oltre 50.000 persone sul circuito di Fossombrone, un circuito che hanno ripetuto due volte, e hanno seguito dal vivo gli ultimi 60 chilometri della tappa del Giro d'Italia. La stampa specializzata ha sottolineato che si tratta di un percorso adatto per ospitare addirittura un campionato mondiale, pensate, dopo aver sottoscritto i complimenti per lo stato ottimale del fondo stradale, così come hanno fatto i cronisti televisivi. Quindi veramente un successo pieno, un successo pieno, una grande promozione per il nostro territorio e poi un grande evento di carattere sportivo, ovviamente perché il Giro d'Italia è uno degli eventi leader dello sport italiano. Fissate le prove per il dirigente della cultura. Torniamo a Fanu. Ci sono dei bandi che l'amministrazione comunale ha pubblicato da tempo e che devono essere risolti. Ci sono dei bandi anche per degli addetti stampa che ancora rimangono un po' al palo, ma c'è un bando significativo per quanto riguarda il dirigente della cultura, un ruolo lasciato libero da quando, grazie a Mosciatti, che lo ricopriva, è andata in pensione. Ebbene, un bando che ormai è alle porte, prima e seconda prova scritta l'8 giugno prossimo a partire dalle 9 e una di seguito all'altra orale, invece, il 15 giugno. Quindi abbiamo prima e seconda prova scritta dalle 9 e l'una a seguito all'altra, insomma, si va uno dopo l'altra e poi invece l'orale il 15 giugno alle 10 nella sala del Consiglio Comunale. Questi sono gli appuntamenti ammessi saranno soltanto i candidati che nei due test scritti avranno raggiunto il punteggio di almeno 60 ottantesimi. Dovranno invece armarsi di una scorta supplementare di pazienza coloro che nel settembre 2019 intravidero una chance di occupazione stabile per il posto di giornalista pubblico. Insomma, quelli che dovrebbero fare gli addetti stampa al momento invece questo ruolo è stato assegnato ad una cooperativa. Sfida a scacchi tra studenti ottima finale per il Tocci e sono gli alunni di Cagli che hanno combattuto questo torneo una ottima performance per i ragazzi della scuola secondaria del primo grado di Cagli nella finale nazionale del trofeo scacchi scuola che si è svolta da domenica a mercoledì scorso nella città di Montesilvano di Abruzzo il quintetto del Tocci di Cagli ha infatti ottenuto un buon piazzamento tenendo alto l'onore della provincia di Pesaro Urbino insomma non è arrivato nei primi posti però insomma è stato un buon piazzamento siamo siamo alla Val Cesano e parliamo ancora della discarica questo questo problema di carattere ambientale che fa impazzire veramente i residenti gestione discarica e a rischio l'unità territoriale lo evidenzia Sauro Marcucci che è capogruppo di minoranza di terre roveresche le proposte avanzate da Feronia che cerca per replacare un po' gli animi di così dare anche lei un sussidio un contributo per quanto riguarda la gestione post mortem della discarica comunale montana del Metauro staminando però l'intesa intercomunale non si vorrebbe che alcuni comuni allettati dall'offerta di Feronia cedessero e quindi accettassero questa nuova discarica di barchi non va sottovalutato l'appello sottoscritto dal gruppo di minoranza del comune terre roveresche composto da Sauro Marcucci Cinzia Malboni Giacomo Pucci e Matteo Zenobi è uno specchietto per le allodole hanno detto la proposta di Feronia di partecipare con i comuni alle spese della discarica e questa la posizione quindi un alto là formato elevato dal gruppo di minoranza e poi a Marotta invece si fanno ancora mosaici veramente Marotta diventa una città del mosaico che fa un po' la spalla Ravenna Ravenna adesso ha dei livelli di qualità eccellsi irraggiungibili comunque Marotta insomma gli sta dietro omaggio agli artisti della Valcesano che hanno colorato i muretti ai mosaici della felicità pensate oltre 200 visitatori così dice il titolo ha superato quota 200 il numero delle visite che l'iniziativa i mosaici della felicità ha riscosso nell'arco di due weekend consecutivi un progetto questo che ha visto la collaborazione all'insegna di tanti giovani artisti della vallata del Cesano che hanno insieme messo a disposizione il materiale di scarto per colorare un tratto del muretto che costeggia il lungomare Cristoforo Colombo vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di alberi alberi che crollano per il maltempo e ieri si è sfiorata veramente la tragedia alberi crollano vicino a due ragazzini il sindaco Olivetti è una tragedia sfiorata due grossi pini sono venuti giù in via Rossini il sindaco faremo controllare ora tutte le piante di quella strada per evitare ulteriori incidenti e guardate la foto veramente una tragedia sfiorata quella che si è verificata quella che non si è verificata ieri a Senigallia tra Ponte Garibaldi e il lavatoio sul marciapiede che è spesso frequentato dai pedoni nelle belle giornate la gente infatti si siede sul muretto e se ci fosse stato qualcuno ieri all'ombra di questo albero veramente sarebbe stata una tragedia ora si cerca di correre ripari si verifica la salute di tutti gli alberi e se qualcuno è ammalato lo si taglia per evitare problemi pugno di ferro sullo sballo fioccano fioccano le denunce nei guai due ubriachi e alla guida di una autovettura quattro giovani segnalati sorpresi con gli spinelli è un po' il bilancio del fine settimana a Senigallia droga e alcol nel weekend due automobilisti denunciati un terzo sanzionato e quattro giovanissimi segnalati in prefettura per l'uso personale di droga c'è anche un 17enne quindi un minorenne l'attenzione delle forze dell'ordine specialmente nel weekend è grande in tutta la riviera non solo a Senigallia ma anche nella provincia di Pesaro Urbino un servizio che tutela soprattutto la salute e la sicurezza di chi si mette la guida magari in condizioni non proprio appropriate ma anche per gli altri perché poi chi si mette la guida magari ubriaco può causare incidenti con esito veramente nefasto a Fabriano abbiamo l'ultima scommessa di Don Umberto il museo diocesano faro del turismo il parroco è stato nominato nuovo direttore 10 eventi l'anno concerti vernissage e mostre e i musei diocesani fanno veramente da contraltare possiamo dirlo ai musei civici sono molto belli perché hanno delle opere d'arte eccezionali in modo particolare quelli che appartenevano a chiese che ormai non sono più in uso e quindi devono essere preservati nelle condizioni migliori vediamo anche la pagina regionale del Corriere Adriatico dove si parla di pioggia ma si parla anche di siccità gli invasi troppo pieni così rischiamo di buttarla via l'acqua l'alarme del presidente del consorzio di bonifica Netti resterà il problema della siccità estiva nonostante queste piogge ha dichiarato il responsabile infatti le rilevazioni dell'AMAP evidenziano come le precipitazioni al momento sono in aumento del 15% ma quello che poi accade nella stagione estiva potrebbe vanificare tutte le riserve d'acqua che in questo momento sono state accumulate e bisogna fare di più bisogna fare nuovi invasi così è l'aspettativa della gente ma quale sarà il tempo la prossima questa settimana i prossimi giorni ancora pioggia vento e brividi e maggio sembra autunno annunciate le precipitazioni intense soprattutto a partire da domani vediamo le previsioni di oggi questa è un po' la cartina delle Marche vediamo come le nuvole si così si avvicinano si oscurano parte del sole ma è un sole pallido un sole che non riscalda nella mattina l'abbiamo un pochino più giallo qualcosa di più e poi in serata abbiamo i nuvole nere e quindi ancora maltempo nuvole nere anche domani per tutta la giornata durante la notte la mattina il pomeriggio e la sera insomma cambia poco abbiamo ancora una primavera che si fa desiderare e che ci aglieta a giorni alterni apriamo la pagina di Pesaro parliamo di alberghi di solito si parla di strade o di alberghi nella pagina iniziale di Pesaro delle Corriere e questa volta vediamo alberghi che si qualificano alcuni diventano alberghi tipo iconic altri di lusso quindi o altri sono condotel ovvero una specie di condominio hotel quindi si possono affittare appartamentini si possono anche acquistare insomma sono alberghi che si evolvono per quanto riguarda la loro gestione e uno tra tutti è l'ex cruiser rinnovato ormai prossimo alla riapertura che diventerà iconic alberghi e accoglienza dunque a che punto siamo lo evidenzia questo articolo pubblicato sul primo piano di Pesaro eccolo qua all'asta i beni del comune spunta anche Peppe Mare per il noto locale di Ponenti si parte da un valore di 440 mila euro si tiene domani nella sede del comune di Pesaro l'asta pubblica per nove immobili di proprietà comunale un valore complessivo di 540 mila euro a base d'asta il metodo delle offerte segrete è al rialzo la vendita con l'apertura delle buste è stata fissata per martedì 16 maggio ma la scadenza per presentare le offerte è prevista per le 13 di oggi quindi c'è pochissimo tempo per partecipare a questa iniziativa ebbene si parla ancora della maxi antenna di Fiorenzuola che finisce in Parlamento sono i verdi a portarla la maxi antenna che sorge disturba inquina possiamo dire il panorama del San Bartolo costituisce un po' l'esempio di come queste strutture dovrebbero essere in sintonia con l'ambiente un po' per come avviene per il fotovoltaico che sì è essenziale come sono essenziali queste antenne ma distenderlo sulle nostre campagne al posto del verde al posto dei campi insomma dà un'impressione veramente brutta e qui bisogna essere veramente degli amministratori oculati esperti per equilibrare la funzione che esercitano queste strutture con l'impatto sull'ambiente maxi antenna il caso in Parlamento tutelare i borghi come Fiorenzuola l'assessore Conti e Fabri incontrano la capogruppo alla Camera di Europa e Verde Zanella si tratta quindi di ristabilire delle regole più precise più vincolanti per ottenere questo equilibrio e poi poveri gattini sono stati ne sono stati abbandonati sette di pochi giorni sotto la pioggia la volontaria dell'EMPA che li ha trovati un gesto di crudeltà veramente come si fa abbandonare poi anche sotto la pioggia sette gattini appena nati di nemmeno 20 giorni che sono stati abbandonati nella notte tra sabato e domenica nei pressi per fortuna di una delle colonie gestita dai volontari dell'EMPA a Pesaro allora vediamo ancora truffa non ci stancheremo mai di parlare delle truffe che vengono così tentate nei confronti degli anziani dopo le telefonate dei giorni scorsi ora il Corriere Adriatico evidenzia un nuovo tentativo c'è una signora che dice ad una settantenne signora l'aiuto a portare a casa la spesa la signora nicchia ma che la insiste e poi accetta entra dentro casa e lascia la porta aperta la signora la va a chiudere quest'altra la va a riaprire ovviamente dopo la signora capisce che vorrebbe far entrare qualcuno dentro casa allora la spintona la fa uscire e grida insomma questa volta la truffa è stata sventata però ci sono due donne che circolano nella zona e che hanno tentato anche altre imprese e quindi bisogna stare allerta per non farsi così rubare poi i beni che ci sono all'interno dell'appartamento in quest'altro articolo la Caritas lancia il progetto Gerico servizio per la fragilità mentale un team di esperti offrirà la consulenza gratuita tre volte la settimana su prenotazioni un buon servizio per chi ha un grosso problema da affrontare passiamo ad Urbino tutela per l'oasi la badia lo chiede pure l'arcivescovo Monsignor Salvucci tra i tanti che hanno partecipato alla camminata in difesa dell'area si tratta di un'area prossima a Monte Calvo in Foglia si è svolta ieri infatti la passeggiata per così evidenziare come questa oasi non deve essere un territorio di caccia c'è la TC di Pesaro che vorrebbe appunto appropriarsi di questo territorio per praticare la caccia gli ambientalisti insorgono e quindi ci sono gli scout ci sono gli ambientalisti ma ci sono anche le organizzazioni cattoliche che contestano che pongono diciamo le mani avanti contro questa eventualità che l'oasi della badia venga considerata terreno di caccia non lo si vuole ed ora diamo un'occhiata invece al resto del carlino a partire dalla prima pagina lunedì edizione ridotta vediamo la pagina di Pesaro tutti uniti per salvare l'oasi della badia qui niente caccia la manifestazione a difesa degli 800 ettari sotto minaccia in 150 sostengono a sostegno dell'ambiente e della cultura e ha partecipato anche il vescovo abbiamo visto poi abbiamo un episodio di cronaca di Pesaro mi ha mosso una volpe paura per una ragazza e a Fossombrono ovviamente il giro d'Italia è stato un successo apriamo subito la pagina per vedere un pochino più da vicino queste notizie eccola qua l'oasi della badia non si tocca tutti in marcia per dire no alla caccia è azzannata una 25enne nel parcheggio del centro Benelli aiuto mi sta mordendo una volpe la giovane l'altra notte si trovava alle 2.45 al centro Benelli stava salendo in macchina quando è stata assalita da una volpe che forse non si sa se è una volpe vera e propria comunque la signora dice che è stata una volpe però insomma le conseguenze non sono gravi e prima di chiudere voglio segnalarvi soltanto un articolo di sport che parla della vis Alma va a segno il sacco di Roma e adesso la finale derby con la Vigor bellissimo questo risultato il Trastevere 1 Fano 2 e ora i playoff sono una certezza la finale con la Vigor insomma Senigallia Fano sarà una bella partita e qui chiudiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto